Ritiene che una fiera come Made può rispondere alle attese del mercato internazionale delle prime lavorazioni? Assolutamente, devo dire che per noi tutti che siamo venuti qui a Milano a guardare, a vedere, siamo rimasti sorpresi della bellezza e della qualità di questa esposizione. Sì, penso che è fatta per veramente a traere sia i tecnici come anche il consumente privato.